ancora in metà della classifica un altro bel successo contro la bottegale basket che partita è stata ma è stata una partita molto combattuta per due quarti poi dopo siamo riusciti a un po dare il nostro ritmo e abbiamo dato un parziale siamo andati un po più visto in versione traduttore filtro con i due americani ci stai provando ci sto provando sì molto difficile ma tra gesticolare un po ci capiamo arrivare questo rende ma speriamo più in alto possibile però ancora è lunga perché la mezza è ben attrezzata valgalico pur la vis c'è pure noi speriamo lavoriamo cerchiamo di andare un po di arrivare fino alla fine in betta già vinto questo campionato anche se era c normale non era c silver quale può essere la chiave per arrivare fino in fondo ma la chiave sicuramente essere uniti noi allora eravamo un bel gruppo eravamo molto uniti lottando e con la squadra si vince a lupo crepi